Ciao, bentornati alla seconda parte della lezione sulla Musga dei Misti. Allora, l'ultima volta che ci siamo rilasciati erano rimasti qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Andiamo avanti. Bene, cambiamo. Prima le braccia. Gira a destra, mette le mani davanti, tira, espande il torace. Gira a sinistro, mette le mani davanti, tira ed espande il torace. Carica, dai un punto in alto, gira giù. Due punti, il destro entra dentro, il sinistro entra dentro. Cinque, sei, sette, otto. E un, e due, e tre, e quattro, cinque, sette, e sette, e otto. Ok, collegando è molto semplice, cerchiamo questo. E un, e due, e tre, e quattro, e cinque, sette, e otto. L'unica cosa che cambia è sette, non c'è nulla. Ok? Solo le gambe. Sette, otto. E un, e due, e tre, e quattro, e cinque, sei, e sette, e otto. Proviamo insieme. Gambe e braccia. Sei, sette, otto. E, ru, e due, e tre, e quattro, e cinque, sei, e sette, e otto. Siamo qui. Da qui dobbiamo fare? Con le braccia, tiro. La mano sinistra si alzata in attesa, la mano destra, tira la spalla, la spalla. Questo è il caso di fare il tiro con l'arco, però facciamo con la mano aperta. Siamo giù. E sette, otto, uno, e due, e tre, e quattro, e. Ok? Con le gambe, semplice. Un, e, un, e, tre, e, quattro, e, facciamo quattro spantelli, avro, chiudo, avro, chiudo, avro, chiudo, avro, chiudo, avro, chiudo, portando le gambe diagonale. Avanti la gamba destra, rientro. Avanti la gamba sinistra, rientro. Avanti la gamba destra, rientro. Avanti la gamba sinistra, rientro. Con le braccia. Cinque, sette, sette, e. Uno, e due, e tre, e quattro, e. Da capo, tutto quello che hai fatto adesso. Siamo giù. Sette, otto, e, un, e, due, e, tre, e, quattro, e, cinque, sette, e, sette, e, salta. Uno, e, due, e, tre, e, quattro, e. Carichiamo uno slide verso la nostra sinistra, facendo girare le braccia. Cinque, sette, e andiamo giù. Peso sulla gamba sinistra, gambe leggermente divaricate. Chiudi le ginocchia, giù. Di nuovo. Siamo arrivati. Qui, slide, sette, e, cinque, sei. Da qui, con la gamba destra, e uno scatto di gusto, ti tiri su, e anche la gamba di scatto. Boom, boom. Due punti. Click, click, col torace. Click, click, con la gamba. Con le braccia, fate come mi pare voi. Nel senso, a livello di protezione. Posso tirare, posso tirare le braccia, posso truttare la spalla. Ok? Quello che mi interessa che ci sia l'espansione del torace e la rotazione esterona, l'estero funzione. Ok? Ok? Cinque, sei, sette, otto. Cinque, sette, uno, sette, otto. Ci siamo? Vai, tutto quello che fa. Cinque, sei, sette, otto. E un, e tre, quattro. Cinque, sette, sette, o. Un, e due, e tre, e quattro. E cinque, sette, sette. Un, e due, e due, e tre, e quattro, e cinque, sette, sette, e otto. Un, e due, e tre, e quattro. Cinque, sei, sette, e quattro. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sette, sette, otto. Uno, due, tre, quattro. Pronto. Apprezzo di oggi. E uno, due, tre, quattro. Cinque, sette, sette, otto. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sette, sette, otto. Cinque, sette, 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 sette Siamo arrivati qua, 7, 8, 6, step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, con le braccia viene fuori questo, step, mani sulla costa, step, rimbalzo, change, slide. Step, roll, change, slide, ultima volta, and step, roll, change, slide, proviamo, collegando, 5, 6, 7, step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, un giro in basso, 5, 6, 7, slow motion, ognuno si tratta su, ok? Ognuno va per dove vai, vai, quindi tutto questo pezzo, andiamo giù, da 6, 5, 6, 7, and step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, step, roll, change, slide, passo, 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 passo. Io ti richi prova la farla, ma l'abattito insieme. Hai la te? Sì 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 Alla fine della nostra posa Qui con le gambe faccio Tacce E non più Tacce Tacce Ok Tre volte 5 6 7 E 1 2 3 Rigirando prima E di slow motion Ok Ci siamo Con le braccia qui Braccio peso Mezza 1-99 Scende e cambia Scende e cambia doppio Di nuovo D'altra parte 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ok Insieme alle gambe Insieme al singolo sul dottorio Proviamo 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 7 7 8 1 2 3 Mi giro 5 6 7 Uuuuuh Ok Fuuuuh Da qui Da si 5 7 7 E si 1 2 3 4 5 6 6 6 8 1 2 3 Mi giro 5 6 7 3 Riparto 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Mi giro 5 6 7 Ok Ci siamo A questo punto abbiamo finito questa lezione Non ci resta che farla tutta da capo prima e secondo le lezioni come un'una Ok Alla Ok 7 Ok Grazie Grazie Ok Allora Grazie per arrivare in positoria Ci aspetto per il terzo E' la ultima da qui nella coreografia Ciao E' presto Ciao Ciao